Ancora una volta Messina al centro dell'attenzione internazionale grazie alla svolta che è riuscita a dare soprattutto in ambito di pubblica amministrazione. L'inglese Matthew Jackson ed il portoghese Edgar Azevedo, rispettivamente al leader expert e coordinatore generale del progetto Eugène Procure, finanziato dal programma europeo Urbact IV, hanno incontrato il sindaco Federico Basile e il direttore generale Salvo Puccio e l'assessora alle pari opportunità Liana Modica. Capire come si può avere la pubblica amministrazione nell'ambito delle gare di appalto se viene osservata la parità di genere, questo lo scopo degli incontri programmati dai due esperti con le diverse componenti della città. È molto importante un'iniziativa del genere e soprattutto essere partner di questo progetto in cui si chiama un'iniziativa del progetto. In cui si chiama un'iniziativa del progetto e in cui si chiama un'iniziativa del progetto